Siamo molto, molto arrabbiati e non è giusto perché noi siamo un popolo, lavoriamo, siamo tranquilli, non tocchiamo nessuno. Scusa, ma che vuole da noi? Abbiamo tanta paura, tanta paura e molto, molto, stiamo piangendo tutti i giorni. Incontriamo Tania davanti al palazzetto di Colle dell'Ara, a Chietiscalo, uno dei centri vaccinali della ASL di Lanciano, Vasto Chieti, che insieme al Palamasciangelo di Lanciano è diventato centro di prima accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra. E' qui che, grazie a un lavoro di sinergia tra ASL, Comuni, Questura e Prefettura, i cittadini ucraini ricevono una prima assistenza sanitaria, espletando contestualmente anche le prime pratiche burocratiche necessarie alla permanenza. Dopo un primo tampone di controllo per escludere la positività al Covid, i profughi vengono identificati e registrati dalla postazione mobile della Questura, a cui fanno seguito il rilascio della tessera STP, acronimo che sta per straniero temporaneamente presente, e una prima sistemazione di concerto con i comuni e con le realtà assistenziali del territorio. Infine, la valutazione sanitaria che contempla anche la possibilità di una vaccinazione anti-Covid, qualora i profughi ne fossero sprovvisti. Al palazzetto di Colle dell'Ara, Tania ha accompagnato la mamma Claudia, riabbracciata da poco dopo il suo recente arrivo in Italia. Io lavoro qui, abito qui già cinque anni, mia mamma è arrivata pochi giorni fa, un viaggio molto molto duro, noi abito in città Zaporizia, per adesso è una situazione molto molto brutta, vicino a nostra città, città Mariupol dove sono morti bambini, dove è bombardato un posto dove stare anziani, bambini, donne, una tragedia. Chi è rimasto a casa? E' rimasto miei amici, miei cugini, tantissimi nostri ucraini, non vogliono scappare, non vogliono lasciare paese, vogliamo proteggere, vogliamo stare lì, anche io voglio stare lì, voglio ritornare, ma non so come adesso, non posso lasciare mia madre perché lei sta molto male, c'è problemi con salute, vogliamo finire presto questa guerra. E grazie anche a voi italiani che siete molto buoni e gentili con noi, ospitare tantissimi, grazie, grazie. Si affiancano alle istituzioni, in questa rete di assistenza anche le associazioni di volontariato come quella di Luca Fortunato, responsabile della capanna di Betlemme e dell'associazione Papa Giovanni XXIII. In tutta Italia, ma anche in Abruzzo e anche in provincia di Chieti, le associazioni di volontariato si sono mosse anche prima delle istituzioni, così come i singoli, e questa è una cosa bellissima, tra cui la capanna di Betlemme e della Papa Giovanni, ma anche la protezione civile, veramente fantastici. E quindi sì, noi personalmente siamo circa di volontari, almeno una quindicina coinvolti, e poi anche alcune famiglie strettissime. Ci sono anche alcune attività, penso alla Magic Basket Chieti, alla Ripa Calcio e Tatina, che hanno dato già disponibilità per accogliere bambini gratuitamente in attività sportive. C'è una bella rete di volontariato che si sta facendo intorno, e in più i comuni hanno avuto mandato, insomma, dalla prefettura per trovare ogni sindaco nel proprio comune la disponibilità di famiglie che accolgano nuclei familiari o che mettono a disposizione alloggi. Però questa disponibilità passa solo attraverso i comuni, quindi questo è il canale diretto, e poi questa novità, insomma, è uscito questo avviso sul sito della Regione Abruzzo per dare la disponibilità per accogliere minori non accompagnati, qualora ce ne sarà bisogno. Ad oggi comunque ci sono le strutture in convenzione, eccetera, eccetera. Quindi si può fare questa domanda dove ci sono tantissimi requisiti giustamente per verificare che la famiglia sia idonea, quindi anche questo è importante. Speriamo che la guerra finisca presto, ma qualora dovesse protrarsi ci sarà bisogno, quindi poi ci sarà davvero bisogno di tutti, cioè l'aiuto statale, ben organizzato e dato importante non basterà, speriamo che non serva sinceramente.